Raga, io non sono stato mai tanto, tanto felice di aver perso una scommessa Io non so che cazzo, cioè che cazzo gli ho fatto al signore Ma io vi giuro, io vi giuro, io mi sento, cioè le perdo tutte, le perdo tutte No, raga dai, è ridicolo, è ridicolo, è ridicolo, è ridicolo, è ridicolo, è ridicolo Non so se la farò in loop, cioè la ballerò solo una volta e poi la metto in loop per un'ora Non me ne frega un cazzo, deve essere il video più, certo tra i video più visti del canale Sono tutti tristi i miei, però non me ne frega un cazzo No ragazzi, non ho disdetto la mia promessa Il video esce, solamente che ci mette trent'anni a renderizzarsi Perché è un'ora e otto di video Quindi verso le cinque sarà up sul secondo canale Comunque, riniziamo? Certo che è veramente una cosa assurda, oh, ma vi sembra norma? Cioè, dalla serie manca a torna ai vecchi tempi Grazie a tutti